Pechino Express Si tratta nello specifico di Adriana Volpe, Paola Caruso e Tommaso Zorzi. I tre vi rischiano infatti una penale per aver spoilerato una loro possibile uscita dal programma. Sui social girano già alcune foto in cui sarebbero tornati in Italia nonostante le riprese del reality, siano ancora in corso. Il noto reality show di Raidu era del resto già stato colpito da una vera ondata di polemiche nelle scorse settimane. Al centro dell'agonia mediatica c'erano stati nel dettaglio i concorrenti Filippo Magnini ed Eleonora Brigliadori. L'ex fidanzato di Federica Pellegrini nonché futuro marito di Giorgia Palmas aveva infatti rinunciato al programma per potersi difendere da alcune determinate accuse. In particolare la procura nazionale antidoping aveva richiesto a suo debito otto anni di squalifica. Dal canto suo, invece, la Brigliadori era stata esclusa dalle riprese della trasmissione per volontà dei telespettatori. Questo era successo a seguito della polemica scoppiata dopo alcune infelici frasi di Eleonora pubblicate sui social. L'attrice, nello specifico, si era pronunciata contro Nadia Toffa, e i malati di tumore in generale. Pechino Express 2018. Edizione Super Pechino Express 2018 rappresenta l'edizione più ambiziosa di sempre prodotta da Magnolia. Il Ducure Ariti Monda su R.A.I.2 da metà settembre porterà i suoi concorrenti in un viaggio attraverso il continente africano. La prima tappa sarà a Tangeri in Marocco, per poi continuare in Tanzania, e nella Repubblica Sudafricana. La rivista TV Sorrisi e Canzoni, unico magazine ammesso su set, ha rilasciato alcune anticipazioni. In particolare ha raccontato dettagli sull'organizzazione del gruppo di lavoro dello show, che conta oltre 100 persone. Tutti viaggeranno attraverso l'Africa con una carovana che assomma addirittura a 15 furgoni. Le dieci puntate saranno condotte sempre dall'irriverente Costantino della Gerardesca. Il tema del reality, come al soluto, sarà incentrato sulla sfida tra le otto coppie in gara. Quest'anno, nello specifico, le coppie in gioco saranno i mattutini, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, i promessi sposi, Roberta Gianrusso e Riccardo Di Pasquale. Poi ci saranno le nonnequine, Linda Morselli e Rachele Fogà, i poeti, Mirko Fezza e Tommy Putti, i surfisti, Andrea Montovoli e Francisco Porcella. Infine il ridanciani, con Tommaso Zorzi e l'ex bonas Paola Caruso. Al posto della coppia madre e figlio, che doveva essere composta dai Leonora Brigliadori, in arte Aaron Noll, e Gabriele Gilbo, ci saranno ora le signore della TV, ossia Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. . .